san leonardo di porto maurizio nato a porto maurizio oggi imperia da un capitano di marina rimase orfano in tenera età studiò presso il collegio romano a roma e poi entrò nel ritiro di san bonaventura sul palatino dove divenne francescano ordinato sacerdote nel 1702 fu incaricato di insegnare filosofia ma ammalatosi dovette ritirarsi in fin di vita promise alla madonna dei piani che una volta guarito si sarebbe occupato anima e corpo della conversione delle anime ottenuta la guarigione si dedicò alla predicazione per lo più a firenze dove fu l'ideatore della prima via crucis patrono della città di imperia e protettore del clero e dei predicatori delle missioni al popolo grazie a tutti